Presidente Castelbarco, una giornata di apertura dei palazzi per dire che le banche non sono soltanto luogo di economia ma anche luogo di cultura e di arte? Assolutamente, l'arte e la cultura fanno parte dell'economia, quindi è giusto che ci sia questa occasione in cui la gente può vedere, può ammirare le opere d'arte che ci sono, che poi sono opere d'arte di tutta la comunità e di tutti gli azionisti della banca. Una raccolta ma anche un palazzo importante, una visita che si snoda in diverse sale prestigiose? Sì, le opere d'arte sono ovviamente distribuite nel palazzo per cui la gente ha la possibilità di accedere ai vari piani dove può ammirare tutto quanto è contenuto nel nostro building. Questa banca indubbiamente è stata un po' l'espressione del territorio anche perché come molti sanno nasce addirittura ai tempi degli anni del 1500 come monte di pietà. Poi naturalmente si trasforma in banca, è una banca che proviene dalle casse di risparmio e quindi ha una tradizione non soltanto per quanto riguarda il credito ma anche una tradizione per quanto concerne proprio la stretta tinenza con la vita quotidiana. Diciamo che a livello locale è la banca che più ha raccolto l'eredità del Banco San Giorgio e naturalmente oltre accanto all'attività del credito ha portato anche l'attività di quello che è un po' la salvaguardia dei tesori di questa Liguria. Man mano che passavano gli anni venivano acquisite queste opere che molte volte venivano anche acquisite per non essere disperse perché alcune di queste avevano praticamente poi destinazione estero oppure altri luoghi e quindi venivano portati fuori Genova. La banca si è sempre posto questo obiettivo di raccogliere all'interno nel momento in cui questi quadri man mano sono diventati non solo importanti ma anche numerosi si è ritenuto di trasferirli nelle sale più vicine per quanto concerne gli aspetti di carattere istituzionale quindi anche nei confronti propri di rapporto con l'esterno e quindi le raccoglie in una quadreria che ritengo non ha nulla da invidiare anche per quanto riguarda i migliori musei che abbiamo qui a Genova. Dottoressa Traversone, un confronto fra due opere e due tele in una giornata in cui le banche mettono a disposizione le loro raccolte d'arte. Ecco come mai questa scelta? Questa è stata una scelta di Banca Carigie a cui noi come soprintendenza abbiamo partecipato volentieri e nell'ambito appunto di questo viaggio che offrono le collezioni di Banca Carigie nella grande pittura genovese si è scelto di focalizzare l'attenzione su queste due opere per dare alcuni spunti di riflessione su quella che è appunto la maggiore rappresentanza delle opere qui in Banca Carigie di scuola genovese. Quindi abbiamo alle nostre spalle due opere che trattano dello stesso soggetto, Lecce Homo e una di Orazio De Ferrari e l'altra di Valerio Castello. Due pittori contemporanei che sono stati protagonisti della scena, della ribalta artistica nella prima metà del Seicento e che pur avvalendosi degli stessi testi e delle stesse fonti raggiungono poi due obiettivi diversi. E' questa la parte interessante, il fatto che poi ognuno sceglie di concentrarsi su una poetica diversa. Grazie. 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 Grazie.